grazie molte grazie per l'invito e molte grazie a voi che avrete la pazienza mi auguro c'è questa una speranza di ascoltare questa specie di teoria della verità che ho cercato di costruire a partire da Agostino adesso non cercate di darvi un senso a questo disegno perché peraltro si trova manufatto dentro dentro al libro però la lezione consisterà nello spiegare questo e se lo capiste subito evidentemente la lezione sarebbe forse meno interessante non è detto ma forse meno comunque innanzitutto vorrei mettere in chiaro una cosa cioè da una parte il nesso tra bellezza e verità in uno come Agostino è del tutto evidente nel senso che si immagina che Agostino abbia un rapporto speciale con Dio e Dio avendo tutte le perfezioni dovrebbe avere anche la massima bellezza in realtà questo è un problema nel senso che Dio per esempio non ha un corpo e ci si può domandare se qualcosa di incorporeo possa essere bello quindi c'è già un problema in questo però mettiamo in senso generale perché allora a questo punto Agostino metterebbe in termini neoplatonici che c'è una bellezza intelligibile del resto già Platone aveva detto che quando noi vediamo un corpo bello questo ci porta verso il mondo delle idee e le idee sono vere allora c'è il bello che come dire protrettico verso il vero magari fosse vero sappiamo che non necessariamente è così però per esempio è stato un elemento che Platone adoperava per giustificare la bellezza nel senso che si dice nella bellezza c'è una forma di particolare chiarezza e quindi dentro a questa particolare chiarezza c'è già un primo senso che ci porta verso il vero insomma è come se noi mettiamo verità evidenza chiarezza bellezza sembrano essere tutte delle nozioni che si legano fra di loro ma questo è una idea molto molto generale fra l'altro ho detto Agostino qui potrebbe essere come Platone o come Plotino insomma come tutta la linea di pensiero a cui più o meno esplicitamente si riallaccia io invece volevo provare a risolvere un altro punto partendo da un luogo di Agostino cioè il fatto che se ci fate caso sia la bellezza sia la verità non sono cose che stanno nel mondo sono attributi di oggetti o di stati di cose che valgono soltanto per degli umani sarebbe strano pensare che ci sia un castoro che ammira la bellezza della natura è anche strano riuscire a capire se un castoro guardando un dipinto di un castoro ammirerebbe la bellezza del dipinto di questo castoro o se una castoressa guardando un castoro viceversa è tutto molto complicato cioè diciamo ma non è che stiamo trasponendo delle cose che riguardano noi perché per esempio ci sono quelli gli animali hanno dei piumaggi delle cose perché con questo con questa bellezza esercitano un'attrazione che poi dopo serve in senso riproduttivo sì sì è vero ma siamo sicuri che ci sia un godimento estetico cioè che noi apprezziamo le penne del pavone esteticamente alla stessa maniera in cui un pavone apprezza le penne del pavone è dubbio non è detto a maggior ragione sembra estremamente problematico sostenere che il pavone sia interessato alla verità o il castoro guardate bene non sto dicendo perché per esempio che piante o rocce siano interessate alla verità è una cosa un po' ovvia mi sembra difficile pensare che il sale sia interessato a sapere che è cloruro di sodio lo escludo invece uno potrebbe dire sì però per esempio vediamo che ci sono degli animali anche degli animali superiori ci sono degli animali anche molto intelligenti con un cervello più grosso del nostro per esempio il delfino e vuoi che questi qua non siano interessati alla verità penso di no penso di no semplicemente perché verità è qualcosa che ha un significato così come per esempio sebbene più ampio mutui oppure matrimoni oppure stato di diritto o cose di questo genere cioè rientra nelle forme di vita umana solo nella forma di vita umana può essere interessante dire se sia vero qualcosa o se sia falso qualcosa la favola del lupo e dell'agnello in cui c'è il lupo che dice una cosa falsa l'agnello che cerca di ritorcere dicendo la verità rispetto alla cosa che il lupo sostiene essere falsa è tipicamente una favola che attribuisce a degli animali come succede in tutto questo genere di favole dei comportamenti umani esattamente quindi per esempio qui, qua, qua, paperino, paperone sono interessati alla verità ma semplicemente perché sono dei finti animali a cui si attribuiscono interesse e comportamenti umani e quindi tutto ritorna semplicemente hanno delle facce diverse dalle nostre ma gli animali come tali sono interessati alla verità ecco, io credo di no ed è l'aspetto che lega la bellezza con la verità che vorrei illustrarvi quest'oggi è questo il primo è l'aspetto negativo cioè l'aspetto che appunto la verità come la bellezza non si trova in natura sebbene non sia qualcosa di soggettivo questo è l'aspetto veramente interessante cioè particolarmente per la verità ma anche per la bellezza non è che uno possa dire eh sì è negli occhi di chi vede perché allora se uno trova brutta casa sua c'è un mercato immobiliare per esempio quindi si suppone che ci sono delle case più e delle case meno belle con delle proprietà con delle altre proprietà non basta ricondizionare il proprio cervello e trovare bella la casa in cui si vive per risolvere il problema immobiliare così pure non è che dipenda soltanto dagli occhi di uno che guarda se ciò che vede è bello o è brutto o a maggior ragione non è che dipenda soltanto da chi fa i conti che due più due faccia quattro quindi sono delle cose che possono essere di un'estrema oggettività in particolare la verità e tuttavia esistono soltanto per degli umani noi siamo portati erroneamente a credere che le cose che esistono soltanto per gli umani siano soggettive quindi possiamo cambiarle come vogliamo non è vero il prezzo cioè che le regole sociali siano costruite dagli umani è indiscutibile dopodiché cambiare le regole sociali può essere altrettanto complicato che cambiare delle regole naturali allora quindi il primo elemento è quello negativo cioè il fatto che tutte e due bellezza e verità hanno la caratteristica di non trovarsi in natura eppure di avere diversi gradi di oggettività e questo è già secondo me piuttosto interessante c'è un elemento positivo e cioè che tanto la bellezza quanto la verità è una cosa che si fa ovviamente nel caso della bellezza si parla soltanto del bello d'arte il bello d'arte è qualcosa che si fa poi c'è il bello naturale oppure il fatto che ci siano delle persone belle e anche questo non è stato fabbricato voluto però quando si scrive un romanzo quando si fa una sinfonia tutte le cose che vengono date come esempi di bellezza è qualcosa che viene fatta e trae il proprio carattere di bellezza dal fatto di essere fatta cioè è stato solo molto tardi che si è cominciato a pensare che mettendo un orinatoio dentro ad una galleria si sarebbe creata un'opera d'arte mentre prima uno doveva stare per un bel po' a cercare la bellezza a struggersi a fare diverse operazioni e poi alla fine quello che veniva fatto c'era un po' iain cioè un'attività che poi come risultato ha un oggetto e questo oggetto se l'attività è stata baciata dalla fortuna è un oggetto bello la stessa cosa vale secondo Agostino per la verità e questo è anche e questo è il punto su cui vorrei portare la vostra attenzione perché noi invece se in fondo ammettiamo che in genere la bellezza bello di d'arte sia qualcosa che è fatto adesso non più ripeto ma nella tradizione è sempre stato così invece siamo portati stranamente a considerare la verità come qualcosa che si dà semplicemente risulta dalla contemplazione e in particolare nella forma più diffusa e anche legittima in cui noi parliamo di verità cioè noi diciamo che la verità è la corrispondenza di una proposizione con una cosa questa è la definizione scolastica ma è la definizione vera della verità cioè quando è che è vera una frase come questo è un libro beh semplicemente perché questo è effettivamente un libro e la frase questo è un libro corrisponde al fatto che qui c'è un libro e quindi la frase è vera se io dicessi questo è un libro la frase sarebbe falsa perché questo in realtà è un microfono quindi è semplicemente la corrispondenza di certe parole con certe cose questo è il punto di partenza però subito c'è qualcuno che ti dice eh ma guarda però cosa significa esattamente che delle parole corrispondono con delle cose cosa sta intendendo che le parole assomigliano alle cose che si adattano particolarmente bene alle cose e di qui sorgono degli conflitti a non finire che purtroppo poi inducono con i filosofi a costruire delle teorie alternative della verità che sono molto peggio di quella della verità come corrispondenza della proposizione con la cosa quindi la mia tesi è che la tesi della verità come corrispondenza della proposizione con la cosa è giusta solo è un po' poco dettagliata e invece se noi prendiamo sul serio l'ipotesi del fare la verità di Agostino possiamo dettagliarla e ne troviamo qualcosa di buono cioè troviamo e riusciamo a giustificare perché effettivamente la verità è la corrispondenza della proposizione con la cosa allora comincio raccontandovi dov'è che viene enunciata questa teoria della verità è nel decimo libro delle confessioni ora notate che le confessioni di libri ne hanno tredici quindi l'opera è già quasi finita ha raccontato tutta la sua vita come era cattivo da bambino quanto piangeva sua mamma e per lui ovviamente tutte le fasi del suo avvicinamento a Dio eccetera 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 e poi inizia il decimo libro dicendo ma perché mi confesso a Dio che sa tutto effettivamente poteva pensarci prima perché raccontare la propria vita a un'onnisciente è un'attività almeno tanto futile quanto scommettere con un onnisciente non ha senso fare scommesso con un onnisciente perché tanto su cosa punta l'onnisciente sai già che quella è la risposta giusta perché sa già come andrà a finire stessa cosa vale per confessarsi a un onnisciente lui lo racconta e a questo punto a questo punto Dio sa già tutto sa già quello che gli sto per dire sa già sa già anche delle cose che io non so perché per esempio io ho raccontato la mia vita fino a questo momento ma poi lui sa delle cose che riguardano la mia vita per quello che riguarda dopo e quindi cosa gli vado a raccontare e allora dice no no lo so che è così però io voglio fare la verità dice Agostino di fronte a te in confessione e nel mio cuore e anche per iscritto di fronte a molti testimoni cioè sta dicendo che lui vuole dare una dimensione pubblica a questa verità la cosa interessante perché effettivamente già ci introduce il fatto che la verità non è qualcosa che si trova ma qualcosa che si fa e in fondo già già questo potrebbe risolvere il il problema del della corrispondenza della proposizione con la cosa in che senso beh effettivamente com'era messo il rapporto tra posizione e cosa c'è una frase questo è un microfono c'è una cosa al microfono se la frase corrisponde alla cosa la frase è vera bisognerebbe essere un po' più fini in questo e pensare allora qual è il processo che fa sì che la mia parola si attacchi con la cosa e Agostino te lo te lo spiega ci sono due pezzi che riguardano la condizione di Agostino e che vi vi racconto rapidamente e poi invece è da monadologia in avanti fino a descatologia che avrete la descrizione e la teoria della verità allora va bene intanto appunto Agostino dice di voler fare la verità a vantaggio non solo di Dio che non se ne fa niente della sua verità ma per se stesso anche per umiliarsi delle cattiverie che ha fatto e a beneficio di tanti altri che potranno trarre vantaggio dal racconto della sua dal racconto della sua vita come un'imitazione della sua vita e quello che fa è un fare la verità anche a costo di fare brutta figura perché come tutti quelli che raccontano la loro vita Agostino è anche disposto a screditarsi a raccontare delle cose poco raccomandabili su se stesso in realtà poi queste racconti poco raccomandabili sono delle inezie le cose grosse non vengono raccontate nel senso che lui racconta di aver rubato un frutto così come invece Rousseau racconterà di aver rubato un nastro mai uno che dico fatto un falso in bilancio di questi qua e sono sempre delle cose minime quelle che vengono indicate come segni di depravazione è interessante capire perché Agostino comunque o Rousseau debbano umiliarsi in pubblico perché effettivamente la confessione nei primi secoli del cristianesimo era una cosa che si faceva in pubblico e non in privato e era una specie di erede del martirio nel senso che i martiri avevano testimoniato con la loro fede con la loro vita la loro fede adesso che non ti uccidono più se sei cristiano devi però comunque mettere in gioco la tua faccia e quindi confessarsi questo comunque il quadro generale la cosa veramente interessante è invece questo appunto vale per Agostino vale per uno che si confessa vale per questo genere fra l'altro in sé stesso interessantissimo delle confessioni dei racconti delle autobiografie delle autobiografie vere delle autobiografie finte delle persone che dicono bugie nelle autobiografie poi invece nei romanzi che parlano di altri dicono la verità su se stessi dico chi può essere così qui analizzo per esempio Simenon Simenon è così cioè racconta continuamente la sua vita parlando di altri ed è estremamente fedele rispetto alla propria vita nel parlare di altri poi quando scrive le memorie intime infila una bugia dopo l'altra per scopi di autoapologia quindi è come se riuscisse a dire la verità soltanto parlando d'altri non è uno dei casi singoli più 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 distinti comunque di che cosa è fatta la verità qui io cerco di dire guardate che la verità non è fatta soltanto di oggetti a cui ci si riferisce di parole che si riferiscono a questi oggetti ma di quattro elementi per chiarire portatori di verità fattori di verità enunciatori di verità e funtori di verità secondo me se lo mettiamo in questi termini riusciamo a spiegare la teoria della verità come corrispondenza salvando l'intuizione normale ma anche spiegando e rispondendo alle possibili obiezioni che vi accennavo prima che cosa significa corrispondere o simile allora per semplificare la cosa visto che come dire non è esattamente il qualcosa di non mi metto a parlare di Dio o di temi che sono difficili da trovare almeno in una conferenza serale ma faccio un esempio più banale supponiamo che io debba dire quante monete ci sono in questo portafogli questo è già più semplice non è come dico la verità su me stesso poi fra l'altro chissà se dico la verità su me stesso allora mettiamo allora apro il portafogli portamonete per l'esattezza e conto le monete e poi dopo averle contate attività tecnica che può essere fatta da me così come da una macchina quelle cose in cui si mettono le monete e che le contano mi viene un numero poniamo che ci siano dieci monete qua dentro a questo punto pronuncio una frase ci sono dieci monete in questo portamonete e la pronuncio di fronte a voi e con questo noi abbiamo i portatori di verità le monete qua dentro cioè sono gli oggetti ossia l'ontologia a cui si riferisce una frase una frase se vuole essere vera o falsa deve riferirsi a qualcosa che non sta dentro alla frase quindi per esempio le dieci monete poi c'è un'operazione pratica operazione pratica che ripeto può essere fatta da un essere umano oppure da una macchina che conta quante sono le monete poi c'è una frase un enunciato appunto l'enunciatore di verità che dice queste monete sono dieci poi dopo ci sono le persone eventualmente interessate a sapere se ci sono dieci monete e questi sono i puntori di verità è molto importante tener conto di tutti questi quattro elementi nel senso che restano i primi due fondamentali che stanno dentro alla definizione della verità come corrispondenza cioè i portatori di verità che sarebbero per esprimerci pomposamente l'ontologia quello che c'è indipendentemente da quello che noi sappiamo e gli enunciatori di verità cioè l'epistemologia quello che noi sappiamo nella fattispecie l'ontologia è il microfono e l'epistemologia è la frase questo è un microfono tuttavia c'è un elemento intermedio pratico e non teorico che ti permette di fare la verità in che senso qui avevo contato allora uno ti dice ma scusa e invece col microfono che cosa che qual è l'attività pratica beh per esempio io sto afferrando il microfono e sto afferrando questo microfono in una maniera diversa da come afferrerei il libro perché il microfono è differente dal libro allora una cosa di questo genere ti suggerisce che noi facciamo moltissime cose nel mondo che sono vere o false senza che noi abbiamo dei concetti legati a queste cose e semplicemente in base a operazioni che possono riuscire o non riuscire per esempio mi è molto facile capire se io ho afferrato questo microfono nel senso che se non l'avesse afferrato il microfono sarebbe a terra quindi quando io prendo il microfono se sono in condizioni normali riesco ad afferrarlo quindi so di aver preso il microfono badate bene è inutile fare studi di etimologia però afferrare è un termine che si adopera altrettanto bene per il pensiero come per l'attività pratica e questo non soltanto in italiano ho afferrato questa cosa ma per esempio begrif cioè concetto in tedesco è la stessa radice di greifen afferrare quindi o anche to grasp in inglese è sempre questa stessa cosa cioè quell'idea che ti dicono ma cosa intendi tu veramente quando sostieni che ci sono di avere afferrato qualcosa che c'è una corrispondenza tra le frasi che pronunci e la cosa che hai afferrato bene la cosa si dà proprio così cioè ci sono delle attività pratiche che possono riuscire o non riuscire io so molto bene per esempio se qui riesco ad afferrare questo oppure se metto qua non l'ho afferrato allora quella domanda cosa significa corrispondenza della proposizione con la cosa significa l'equivalente concettuale di questa attività pratica cioè io con la mano riesco ad afferrare il bicchiere se riesco ad afferrare il bicchiere con la frase questo è un bicchiere oppure c'è un bicchiere su questo tavolo afferro concettualmente quello che sta di fronte a me quindi il pretesa la pretesa eh eh enigma che starebbe dentro alla verità come corrispondenza cosa significa corrispondere semplice corrispondere significa che la frase afferra cattura coglie la cosa che mi sta di fronte e aggiungerei di più moltissime volte noi afferriamo e catturiamo delle cose senza avere la necessità di fare degli enunciati concettuali cioè noi nella vita facciamo tantissime cose che eh riusciamo a fare pensate un bravo cuoco oppure uno che va in bicicletta senza sapere i principi della fisica eppure va in bicicletta il bambino che dà un calcio al pallone poi si allontana per non riceverlo sulla testa e non ha letto né Aristotele né Newton quindi sono dei fatti che avvengono eh che avvengono la cosa più bella è quella che ha detto Leibniz e cioè che l'asino va dritto al fieno senza aver letto una sola riga di Euclide quello lo trovo particolarmente bello però effettivamente sono tutte delle operazioni che noi facciamo senza che ci sia bisogno di concetti ovviamente poi per la verità sono necessari dei concetti quindi ci sono certe operazioni in cui noi oltre alla riuscita dell'atto cioè del fattore più o meno riuscito dobbiamo anche aggiungere eh eh delle parole e allora a questo punto eh dobbiamo dire eh lei risulta positivo al covid oppure ehm c'è un bicchiere su questo tavolo oppure oggi è martedì eh tutte queste frasi che sono vere in eh in vari sensi bene sono degli enunciati e quindi eh riguardano l'enunciazione della verità la parte epistemologica però non c'è più il mistero del capire come l'ontologia si attacca all'epistemologia perché in fondo l'epistemologia è una variante della tecnologia cioè in moltissimi casi nella nostra vita riusciamo riusciamo ad afferrare le cose e non abbiamo bisogno di aggiungere delle parole per spiegare quello che noi facciamo invece ci sono degli ambiti in cui dobbiamo aggiungere delle parole e a questo punto scatta il sistema della verità come corrispondenza della proposizione con la cosa resta ed è molto importante l'elemento della teleologia cioè dei puntori di verità il fatto cioè che di nuovo l'ho detto anche prima noi ci troviamo a fare la verità perché qualcuno spesso ci può chiedere di farla perché abbiamo bisogno di farla cioè perché ci stiamo indirizzando a qualcuno nel momento in cui facciamo la verità tipicamente Agostino si trovava nella situazione in cui c'era uno che la verità ce l'aveva già non aveva bisogno che gliela facessi ma già che c'era stava lì visto che è onnisciente onnipotente e anche ogni paziente sta a raccontare delle storie che conosce già poi c'era accanto a questo invece uno che stava facendo la verità nel suo cuore e questo ha un senso nel senso che ognuno di noi sperimenta nella propria biografia oppure quando racconta cose che gli sono avvenute che molto spesso chiarisce a se stesso le motivazioni o le ragioni di quello che ha fatto nel raccontarla agli altri questo è il principio su cui si basa la psicanalisi e la letteratura o pratiche di autonarrazione perché uno si racconta è come uno dice ma lo sapevi già in fondo se sei arrivato fin qua la tua vita ti ha condotto fin qua sei una memoria normale sai come sei arrivato fin qua ed è inutile che tu racconti la tua vita no in realtà in questo lavoro di azione attiva e soprattutto di un'azione che comporta sia lo scrivere cioè il fare qualcosa pronunciare delle parole sia il rivolgersi a qualcuno nel senso che noi tutti sappiamo molto bene come il rivolgersi a qualcuno cambi molto lo statuto di quello che facciamo per esempio dobbiamo essere molto più chiari e l'utilità per gli studenti del ripetere le lezioni perché ripetele perché si immagina che ci sia qualcuno che ascolta e a questo punto le cose che erano oscure in loro si manifestano e quindi capiscono di aver capito bene una cosa per inciso come sappiamo succede anche ai professori solo che è più grave perché succede a lezione allora il punto decisivo qua dentro che cos'è è il fatto che allora hai quello che possiede la verità ed è Dio hai quello che sta facendo la verità ed è Agostino e poi ci sono i molti testimoni a cui lui si indirizza e questi fanno parte del sistema della verità nel senso che sono testimoni del fatto che lui sta facendo la verità non sono testimoni oculari nessuno di quelli che leggono le confessioni di Agostino era presente per dire è proprio vero quello che tu hai detto ma sono semplicemente i destinatari del racconto ora effettivamente il destinatario è una parte importantissima nella verità pensate per esempio se non esistessero delle riviste scientifiche cioè degli scienziati delle persone che vogliono nessuno scriverebbe degli articoli scientifici non si capirebbe perché mai ci debba essere qualcosa come la scienza invece la scienza è un sistema in cui fai delle ricerche pensando di rivolgerti confrontandoti con delle cose che possono essere vero o false ma sapendo di doverti rivolgere a degli altri questo è importante perché di nuovo come coloro che criticano la verità sostenendo la verità come corrispondenza alla proposizione alla cosa dicendo non è chiaro che cosa tu intendi come corrispondenza e io invece dico è chiarissimo è afferrare qualcosa materialmente oppure afferrarla concettualmente non ci vuol molto avrai afferrato una maniglia in vita tua almeno una e d'altra parte ti sarà capitato forse almeno una volta di non riuscire ad afferrare una maniglia ecco bene sappi che è la differenza fra una proposizione che corrisponde alla cosa e una proposizione che non corrisponde alla cosa solo che nel caso delle proposizioni le proposizioni sono in linguaggio o in scrittura mentre questi sono semplicemente dei gesti un'altra obiezione classica che è stata fatta nei confronti della verità è dire eh ma guarda che sai la verità è utile avere la verità perché la verità ti rende potente la verità ti rende impotente la verità puoi adoperarla per far passare dei tuoi messaggi ed è così che si sono creati tutti tutti i tipici meccanismi contro la verità della filosofia dell'ottocento e del novecento insomma quando c'erano i novax che ti dicevano che era big pharma che voleva che si facesse così e così riprendevano un tema classico della filosofia dell'ottocento e del novecento che diceva visto che ci sono dei moventi interessati all'interno della verità non c'è la verità ma dice no no è sempre come i conflitti di interesse per forza che ci sono basta esplicitarli e qui noi lo esplicitiamo mettendo il puntore di verità è chiaro che quando tu fai la verità ti indirizzi nei confronti di qualcuno non stiamo facendo la verità in un mondo astratto o iperuragno resta tuttavia che questo fa parte del sistema della verità e non intacca la verità cioè evidentemente se io volessi rivolgermi ad un pubblico di ascoltatori in sanscrito avrei delle serie difficoltà perché non so il sanscrito quindi dovrei prima come dire munirmi della conoscenza del sanscrito e dire guarda che se vai a fare una conferenza a quelli lì che parlano dei saperi del sanscrito se non ti capiscono e questo è prendere atto del fatto che ci sono dei funtori di verità se chi mi ascolta non conosce la lingua che parlo o viceversa se io non conosco la lingua di chi mi ascolta tutto quello che sto dicendo è inutile quindi quello che sto suggerendo adesso è che buona parte delle critiche che sono state fatte principalmente dai filosofi però il problema è che i filosofi sono più pericolosi di quanto non si creda perché poi la gente gli crede e magari regola la propria vita sulle cose che sono state dette dai filosofi quindi il filosofo che ti dice la corrispondenza la verità come corrispondenza alla proposizione di una cosa e non tiene e quindi se un coniuge chiede ad un altro dove ieri ieri alle 5 del pomeriggio e dice ma cosa tu mi chiedi delle cose di banale corrispondentismo non ti dirò mai delle ovvietà legate al corrispondentismo alla verità e non nascondimento e apertura o qualche altra cosa che è stata inventata come alternativa e semplicemente perché ma abbiamo creato delle teorie alternative della verità che però non rendono conto della banale esperienza della verità che invece è quella della corrispondenza e quando invece ti dicono guarda che il problema della verità consiste nel fatto che ci sono delle persone interessate alla verità quindi non ci può essere verità oggettiva dal momento che c'è interesse nella verità io rispondo per fortuna che c'è interesse nella verità non c'è nessuno più interessato alla verità per esempio è un esempio che è stato sviluppato benissimo da Proust nella recherche che il geloso il geloso è uno scienziato interessatissimo nei confronti della verità e proprio della verità come corrispondenza della proposizione alla cosa perché vuole sapere esattamente le circostanze e se è così e dove come e quando ed è un positivista iperinteressato ma è interessato alla verità non è che si è interessato a come dire a qualcosa di diverso dalla verità oppure visto che lui ha interesse nei confronti della verità allora è disposto a bere qualunque cosa no vuole appunto sapere la verità esattamente come il medico come il giurista come il fisico per inciso e questa è una cosa che affronto ampiamente all'interno del libro vediamo ma come dire non non vi impongo più di tanto qua è il fatto che molto spesso e per delle ragioni sostanzialmente sbagliate siamo portati a credere che la verità sia soltanto qualcosa che ha a che fare con la scienza ora io non sto dicendo che la scienza non abbia verità sto dicendo semplicemente che c'è una grandissima quantità di proposizioni vere o false che non hanno niente a che fare con la scienza se la consideriamo come scienza della natura perché perché ci sono tantissime cose che hanno a che fare soltanto con noi come esseri umani allora io credo che sia importante riuscire l'esempio che mi sentirei di fare prendete un giornale non in tempi di pandemia perché nei tempi di pandemia si parlava di scienza o di alcune scienze anche nelle prime pagine in tempi normali invece la scienza arriva soltanto nella pagina delle previsioni meteorologiche e ogni tanto nelle pagine di cronaca se ci sono delle perizie balistiche o cose di questo genere e in generale non c'è nessuna forma di scienza ammesso o non concesso che si voglia considerare scienza allo stesso livello che la fisica l'economia perché ovviamente poi dopo ci sono anche la borsa e cose di questo genere però è importante notare come noi siamo perfettamente in grado di dire che qualcosa è vero o qualcosa è falso in ambiti in cui la scienza non ha nessun tipo di autorità nel senso che pensare come pensavano molti filosofi nel novecento che in fondo visto che noi siamo degli oggetti fisici e lo psichico può essere tutto ridotto al fisico il fisico può essere tutto ricondotto alle sue particelle elementari quindi alla fine se noi diciamo di questa sala cosa c'è in questa sala ci sono atomi noi diciamo una frase assolutamente vera che mi guardo bene dal metterlo in discussione però ci perdiamo l'essenziale di questa sala cioè per descrivere questa sala dobbiamo dire che ci sono delle persone e già qui non si capisce tanto bene gli atomi quanto aiutino perché gli atomi non ti permettono di distinguere una persona da delle sedie su cui sono sedute queste persone oppure è in corso una conferenza anche qui non è chiarissimo come gli atomi possano confermare o smentire il fatto che sia in corso una conferenza e via discorrendo per cui il modello in fondo dovremmo avere in mente che molto probabilmente il vero paradigma della verità e questa è un'altra cosa che ci insegna Agostino è molto di più la soggettività e le individualità che sono presenti nella storia che non gli atomi o le molecole non perché gli atomi e le molecole non sono rilevanti ma perché se facciamo un sistema della verità a quattro termini come quello che vi ho proposto e che posto in termini più tabulari più schematici è ontologia i fattori di verità scusate i portatori di verità tecnologie i fattori di verità epistemologia gli annunciatori di verità teleologia i funtori di verità se noi mettiamo tutto questo appare molto chiaro che c'è un modello di esseri umani che stanno intorno alla verità di esseri umani che compiono degli atti per esempio contare le monete che stanno dentro un portamonete o guardare se c'è un bicchiere sopra a questo tavolo oppure dire se questa è una conferenza oppure meno sono tutte delle funzioni che fanno gli esseri umani con anche delle disposizioni tecniche che appartengono agli esseri umani per esempio avevo detto all'inizio chissà se un pavone prova un godimento estetico nel vedere la penna di una ruota di pavone è possibile che provi un'attrazione però dire che provi un godimento estetico non lo so non saprei avrei anche idea di no oppure vi ricordate quei cavalli che erano in grado di fare delle operazioni erano dei casi anche molto discussi all'inizio del novecento persino da filosofi e psicologi e uno si può chiedere ma questi cavalli stavano davvero contando non nel senso che i cavalli non conoscessero l'aritmetica è ovvio che non conoscevano l'aritmetica ma non lo conosciamo neanche noi quando contiamo batate bene io non ho bisogno di sapere che cos'è l'aritmetica per fare 2 più 2 fa 4 o anche per fare delle operazioni molto più complicate sufficiente che abbia un algoritmo pratico che mi insegnano gli elementari e mi permette di fare queste operazioni quindi non è la questione di sapere che cosa significa quello che sto facendo posso fare senza sapere il problema è che per il cavallo non è interessante neanche la soluzione mentre per noi sì quindi tutto questo insieme di circostanze ci suggerisce che la verità come la bellezza è qualcosa che riguarda essenzialmente gli umani ha molto a che fare con delle operazioni che si compiono non esiste senza dei destinatari e è estremamente oggettiva sebbene dipenda dai soggetti ecco questo grosso modo è l'orizzonte che mi sento di ricavare ricavare da Agostino e di ecco Grazie a tutti